amg on the road percorsi alternativi benvenuti a ang radio young people on air sono momo the great benvenuti e bentornati al mio podcast oggi il tema è amore interculturale penso che sia d'accordo con me che l'amore è una cosa unica l'amore può essere platonico, non ricambiato, folle, malato come dice il mio amico Tamer però ce ne sono talmente tante che è difficile davvero inquadrare il vero senso dell'amore e tra queste c'è anche il tema odierno, amore interculturale ho fatto un po' di interviste, un po' in giro tra amici e ora sentiamo quello che hanno da dire la prima domanda è stata che cos'è per te l'amore? prima di tutto il rispetto tra la persona che se non c'è rispetto non c'è amore poi dal rispetto si passa alle attenzioni una persona si deve sentire amata, coccolata l'amore è un sentimento reciproco tra due esseri umani l'importante è che ami la persona e fai la tua vita è un qualcosa che nella tua vita è difficile che la eviti per me l'amore è amare una persona con tutta se stessa amare i suoi difetti, amare tutto di lui, amare stare con lui l'amore è una cosa bella e beh io sono sposata da 30 anni quindi penso sia una gran cosa e beh l'amore è una cosa bellissima però devi trovarlo con la persona giusta mi sa che un po' non esiste perché la maggior parte delle coppie non durano perché non c'è amore in base a queste risposte abbiamo già un po' una definizione molto variegata soprattutto l'ultima lei non pensa che l'amore esista pensa che sia un'invenzione ho incontrato un sacco di persone che la pensano come lei pensano che l'amore sia un'invenzione dell'uomo soprattutto a livello naturale per riprodursi, per stare con una persona però io non sono fatto così io amo incondizionatamente la mia famiglia i miei amici i miei brothers and sisters e intanto mettiamo anche un brano musicale così vi divertite un attimo se no è una palla non voglio che mai nadie mi hable di amore non voglio che mai non mi hable di amore non mi hable di amore se esos trucos ya me lo se esos dolores lo pases non te odio non è secreto ante todo lo confieso si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di las palabras y todo el tiempo que perdí me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti quisiera que te sientas como yo me siento quisiera ser como tu sin sentimiento quisiera sacarte de mis pensamientos quisiera cambiarle el final al cuento las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me gozaste y todo lo que hiciste conmigo un infeliz en el amor que aún no te supere que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras preguntándole adiós siempre el amor existe y porque si yo era tan bueno de esta mierda tu me hiciste lo más cabrón es que tu ves todo como un chiste siempre voy a maldecir el día en que naciste los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores ya yo perdí la fe de que tu me ore si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores yeah no quiero que más nadie me hable de amor ya me canse todos esos trucos ya me lo se esos dolores los pases eh 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 yeah no quiero que más nadie me hable de amor ya me canse todos esos trucos ya me lo se esos dolores los pases sentiamo adesso che hanno da dire le seconde risposte la domanda è le famiglie possono creare problemi all'interno di un rapporto tra due persone di due etnie diverse conoscere altre culture è sempre un'esperienza in più nella vita che uno fa quello che ti piace non è la provenienza origine se ti piace ti piace basta che sia italiana che sia marocchina che sia cinese che ne so quando una persona ti piace ti piace basta innanzitutto per le famiglie penso che sia un tabù inizialmente ma penso che magari ci sono delle famiglie che non accettano perché è sempre questione di mentalità alla fine la religione ti porta anche mentalità diverse solitamente chi ha una religione vuole che i figli si sposano con quelli di quella determinata religione non con altre religioni diverse dipende soprattutto dalle famiglie se riescono ad accettarsi si può anche trovare un punto d'incontro molta gente non accetta sta cosa non ci interessa ricordate che stiamo bene insieme viviamo insieme e andiamo avanti a tutti è mai successo che stai con una persona e la famiglia non è d'accordo la religione non è fatto per dividere ma per unire se lavora è una persona fatta per bene ecco questi sono i valori secondo me da guardare no ma guarda ci possono essere però si affrontano ci sono passato anche io con queste cose diciamo perché i genitori delle compagne con cui sono stato non volevano che stavamo insieme e quindi abbiamo dovuto un po lottare sulle cose però alla fine se tu lotti per amore otteni sempre i risultati poi perché l'amore vince su tutto esattamente boom anche qua un sacco di risposte diverse ora facciamo sentire invece qualche errore che c'è stato durante le registrazioni un po divertente mi sono divertito un sacco a montarlo mi hanno fatto troppo ride quindi date un orecchiata guardo sempre il lato estetico se sei bello ok se non sei bello vabbè ragazzi vi saluto anche se ho detto un sacco di struzzate anche se ho detto un sacco di struzzate ok però ecco la vita è questo ognuno dice il suo proprio pensiero e anche bello ascoltare il pensiero degli altri per te l'amore è soltanto una cosa che fa scalpore cos'è quindi per te l'amore interculturale eh l'amore in te eh oh my god svegliere è come venire ciao ragazzi continuate a seguire momo the great abbottonati che poi prendi freddo ma lascia mi lascia perché so figo no non sei figo perché non hai peli alla prossima è mi raccomando scrivetemi su instagram che cos'è per te l'amore cos'è per te l'amore interculturale No regà, troppo... Eh, non lo so Stupi Grazie mille, Jackie Se puoi farci un saluto Ciao, fammi un cocktail L'amore interculturale per me è l'amore fra culture Ho detto che non significa... Non so cosa significa intercult... Praticamente vivete la vostra vita Spegnete i sentimenti e via Ciao, bella AMG on the road Percorsi alternativi